Sofia, che dici? Posso tirarla fuori la torta? Mamma, ma l'hai appena messa. Deve cuocere. Te lo dico io quando tirarla fuori. Non potete farci questo. Sì, sì, hai ragione. Solo che ora ci sono... dei nuovi sviluppi che dobbiamo verificare. Quali nuovi sviluppi? Eccola. Eccola, è pronta. È facilissima da fare. Dovreste provare anche voi. Uova, farina, zucchero... È cruda. Fammi parlare. Ma poi cos'altro ci vuole? C'è il cioccolato. Il cioccolato. Senti, perché non vai un pochino in cucina? Che è tutto da risistemare. Poi ti aiuto io, va bene? Grazie, mamma. Voi dovete permetterci di dirle addio. Noi ne abbiamo veramente bisogno. Noi ne abbiamo bisogno.